E' complicato, all'interno di entrambe le coalizioni si riscontrano posizioni a favore e contro, netto il no dei moderati di centrodestra. Lo stesso Welby sa benissimo che le leggi dello Stato italiano non consentono, se non attraverso il suicidio, di decidere personalmente di morire. Quindi se lui ritiene di voler dare un taglio alla propria vita, può suicidarsi con l'aiuto della moglie, ma questo non ha niente a che fare con la legalizzazione dell'eutanasia che è un omicidio sul quale la nostra cultura giuridica non può essere d'accordo.